Mi chiamo Damiano Carrara, sono nato a Lucca nell'85, faccio il pasticcere e vivo negli Stati Uniti. Il mio stile di pasticceria direi che è uno stile moderno e pulito e bellino. La mia passione della pasticceria è nata facendola, inizialmente non mi piaceva, lavorando tutti i giorni è diventata proprio una passione. Lo stampo Ice Glow è lo stampo che ho scelto per la collaborazione con Silico Marte perché è quello che si avvicina un po' più al mio stile di pasticceria. Quello che ti permette di fare preparazioni più ampie, quello che ti permette di stratificare una torta. Stile moderno, pulito ed elegante secondo me. La ricetta che ho sviluppato per questo stampo è uno stroiser ricomposto con cioccolato bianco al cocco con un lampone croccantino, con dentro un cremoso al melograno, una mousse alla vaniglia, un gelé di inserimento al melograno e pepe di Szechuan, una marquise al cioccolato fondente, tutto spruzzato con effetto velluto, un pochino di Pollock, un po' di lampone crispy e del gel al cocco. Secondo me è un dolce molto equilibrato con diverse consistenze che ti porta in alto, è proprio come questo stampo Ice Glow. Un saluto a tutti gli amici di Silico Mart Ice Glow, lo troverete ovunque, nei negozi Silico Mart, rivenditori e ovviamente anche sul mio sito. Ciao! Ciao!